Buonasera Montescudo, siamo tornati, siamo tornati. Signore, appena registrato Ciao Darling, è uno dei California Dream Man, uno degli istituzioni. Abbiamo l'onore di averlo qua con noi, è un personaggio, è famosissimo. Vorrei per cortesia le donne qua davanti, venite avanti, dimenticatevi dei vostri mariti, dimenticatevi dei vostri fidanzati per un attimo, perché, signore e signori, direttamente da Ciao Darling, questa sera è qui con noi in esclusiva, Ladies and Gentlemen, Iero! La storia del primo e ultimo Imperio E loro, con los cascos brillanti, erano come dios, per i figli del sol, i padrii adati, le madri, llorando e llorando, non si dava cuenta che la luna abbia cambiato su color, E fuori come diosive, come diosive, come diosive, come diosive, come diosive e speranza. E' questa è la storia, questa è la storia del primo e ultimo Imperio. E' questa storia del primo e ultimo Imperio E' questa storia del primo e ultimo Imperio È la storia del primo e ultimo Imperio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.